Urlo molto bene ma è stato frutto di uno sforzo perché non mi viene facile, soprattutto non mi viene facile arrabbiarmi nella mia vita personale, quindi poi farlo, recitarlo, interpretarlo è... Eh? Cosa? Dice ok, fate sì. Va bene, comunque sì, non è facilissimo, noi poi abbiamo, diciamo, registrato... no, vabbè comunque no. Avete doppiato? No, no. Hanno doppiato. No, un piccolo, un piccolo pezzetto. Un piccolo, con due o tre urletti. Grazie.